il motore è caldo e davanti non riesce a far giro non gira l'acqua se gira perché non si amare che gira sì magari c'è le palette sai come sono fatte dentro dentro perché magari manca qualche ventolino si può aprire comunque si può aprire è cazzuta ecco il contrario non 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 Sì, su di qua. Questa è bella, però impegnativa. Sì, sì. Bravo, cazzo. Bravo. Distrutto. Sì, c'è un sasso. Sì, cazzo. Sì, cazzo. Sì, cazzo. Sì, cazzo.